Mangus. Si chef. Cosa stai facendo? Io voglio fare un pizza con ananas. Tu ti prendi questo rischio? Si, io voglio prendere un rischio oggi. Tu lo sai di dove sono io? Napoli. Se io torno a casa e dico che ho mangiato la pizza con l'ananas, cosa mi fanno a me? E tu vuoi questo di me? No, no di te, però io voglio giocare, io voglio provare qualcosa, voglio provare un po'.